salve a tutti benvenuti a questo nuovo video oggi parliamo come vedete di banlist sempre poi ritardo perché sapete come la penso prima però di iniziare a parlare di questo argomento vi consiglio se non lo avete ancora fatto di guardare il video che ho caricato recentemente è un video un po' diverso una partita live si parla un po' in veneto un po' in dialetto quindi è un po' così un esperimento un po' strano però è divertente secondo me quindi se non lo avete ancora visto vi consiglio di farlo e direi comunque di passare all'argomento principale la banlist uscita recentemente che partirà dal primo dicembre e non lo so forse molti vedendo sta banlist pensavano beh l'hanno fatta uscire prima perché c'è un problema da risolvere il problema si chiama tiara la mens un deck che molti definiscono addirittura tier 0 un deck che con il supporto iscizzo è diventato ancora più rognoso di prima è un deck che effettivamente è difficile da gestire perché gioca il suo turno gioca il vostro turno fa catene che vi serve un pezzo di carta per tenere conto di tutte le robe che risolvono quindi una roba abbastanza problematica e se pensavate che konami avrebbe fatto qualcosa per bloccare questo deck poi andate a vedere la banlist e la prima roba che vedete è mina mistica bandita allora qui secondo me ci sono due gruppi di persone ci sono quelli che sono felici che mina mistica sia bandita perché è una carta che se ve la trovate contro non avete out nel deck non giocate vi conviene concedere fare side deck prendendo tutta la roba che può distruggere mina mistica o farla o bandirla o quello che è e pregare di pescare quella carta oppure ci sono quelli che sono non troppo felici perché magari giocavano mina mistica perché l'avevano inside contro certa roba per esempio contro tiara lamenz perché mina mistica comunque era una carta che poteva bloccare tiara lamenz allora uno dice ma scusa perché vai a togliere mina mistica che la gente chiedeva da mesi o forse anche anni che venisse al limite limitata ma bandita perché la vai a togliere adesso quando fai uscire una banlist che la gente si aspettava avesse come obiettivo principale quello di andare a limitare un po tiara lamenz così sembra che abbia dato una mano a tiara lamenz quindi mina mistica una roba che non lo so da un lato forse è positiva da un lato è negativa non so bene come interpretare questa cosa ma forse lo capiremo quando arriveremo alle sbannate quindi per adesso teniamoci questa mina mistica un po così sospesa ripeto c'è chi sta notizia piace a chi non piace però così conami ha deciso poi hanno il bandito curioso vabbè questo ci interessa meno passiamo alle limitate allora conami ha detto ascolta se dobbiamo fare qualcosa ai tiara lamenz facciamo qualcosa a non ai tiara lamenz direttamente ma a delle carte che magari tiara lamenz usa come l'araldo quindi limitando l'araldo che cosa hanno fatto hanno detto vabbè adesso hanno meno negazioni è anche vero che magari non tutte le liste tiara lamenz giocano l'araldo quindi si unit leggero diciamo ci sono andati di lato non è che hanno gestito il problema principale hanno semplicemente detto andiamo a limitare qualcosina che li aiuta ma io mi sarei aspettato di vedere limitato il terreno per esempio perché non l'hanno fatto secondo me non l'hanno fatto perché le carte tiara lamenz e le shizu sono troppo recenti costano la gente le usa la gente le compra e quindi a livello proprio commerciale economico non ha senso andare a bloccare questa fonte di guadagno no quindi probabilmente lo faranno più avanti come hanno fatto in ossigi hanno limitato il terreno hanno fatto delle altre it però voglio dire per adesso quello che hanno fatto sì non sembra troppo efficace no quindi passiamo alle semi limitate abbiamo l'uccello qua e l'irilus vabbè ok e infine andiamo alle sbandite e qui vediamo qual è stato l'approccio konami per gestire i tiara lamenz l'approccio konami per gestire i tiara lamenz è stato quello non di limitare la roba tiara lamenz ma di sbloccare robe che rompono le balle a tiara lamenz e quindi qui vediamo la dimensional fishery macrocosmo e il metaverso che torna a tre probabilmente con il discorso di aver bandito la la mina mistica ha detto vabbè metaverso può tornare a tre al limite uno si prende la necro valle se proprio vuole bloccare tiara lamenz però non riesce più quel metaverso ad avere in pratica sei copie della mina come interpretare questa mossa allora secondo me posso capire la logica di konami di fare questa cosa perché dicono vabbè ascolta visto che le carte vendono e non possiamo andare a toccarle perché troppo presto però la gente si sta un po rompendo le balle di questo formato tier 0 in qualche modo dobbiamo fare qualcosa e quindi diamo alla gente munizioni in questo caso la il metaverso il macrocosmo e la dimensional fishery per combattere tiara lamenz qual è il problema il problema di questo approccio è che adesso queste carte a tre le useranno tanti e quindi se voi giocate un deck che non è tiara lamenz ma che ha bisogno di accedere al cimitero è molto più probabile che vi troviate a giocare contro della gente che ha sta roba e quindi vi blocca anche voi quindi il danno collaterale se volete è che hanno reso molto più deboli secondo me un sacco di deck che magari erano meno forti del della roba che gira adesso tipo i tiara gli sprite al limite e i flanderis vabbè i flanderis in realtà sta roba sono felici perché tanto del cimitero non se ne fanno niente però voglio dire il problema è quello quindi se voi giocavate un deck non tiara lament e volevate in qualche modo con questa banlist avere delle possibilità in più di gestirli va tutto bene a meno che il vostro deck non usi il cimitero come il deck shadow sapete benissimo che ha bisogno del cimitero non possiamo permetterci di usare macrocosmo e di dimensional fishery perché andiamo ad uccidere anche il nostro di deck è un po questo il problema quindi secondo me questa mossa è stata parzialmente parzialmente positiva proprio perché andando a toccare tiara la mens in questa maniera indiretta sono andati a toccare altri deck che magari a questa roba hanno molti meno out di tiara alla mens quindi se sono andati a fare un danno a tiara alla mente di non lo so vi do un numero 3 su 10 ne hanno fatto uno di 7 su 10 a un deck meno potente che aveva bisogno del cimitero e che adesso probabilmente dovrà combattere contro deck che sta roba ce l'hanno direttamente in main a sto punto perché se se più del 50 60 non so quali siano le statistiche adesso ma se la maggior parte della gente usa tiara la mente ha senso a sto punto aver sta roba di main quasi quasi quindi ripeto l'aver tolto mina mistica non ho capito perché l'hanno fatto adesso dovevano farlo prima adesso è proprio il momento peggiore perché hanno tolto un out importante contro tiara la mente al prezzo di cosa al prezzo di floodgates che vanno comunque a colpire un sacco di deck perché yugioh è diventato comunque un gioco dove il cimitero è importantissimo a parte alcune strategie come i flanderis ma di base quasi tutti i deck devono lavorare col cimitero in qualche modo hanno mostri che si attivano effetti magie trappole quindi un sacco di roba comunque nel cimitero si attiva o del cimitero ha bisogno e con queste queste carte a 3 non lo so vedremo vedremo come il formato evolve io non sono completamente convinto di questa scelta vi ripeto poi qui vediamo anche la tanki a3 sto xc stellar night vabbè che magari potrebbe essere rognoso però il problema è proprio che non credo non credo che questa mossa sia quello che serviva avrei preferito a sto punto aspettare un attimino di più e vedere una banlist che andava a toccare la roba chiara la mente direttamente quindi ripeto magari mettere il terreno a uno o limitare alcuni dei loro mostri anche perché adesso il problema se vedete un po' come la cosa è andata avanti in ossigi stanno uscendo tutte le altre robe simpatiche quindi ci sono i shatri la e i beast in realtà non vengono molto usati e quindi l'approccio konami secondo me aspettiamo finché non facciamo uscire il nuovo archetto tipo rotto poi possiamo andare a toccare un po' come hanno fatto da dai brand di poi se ci pensate o forse anche prima quindi inizio dell'anno scorso vi parlo di ocg perché io sono a singapore e anzi inizio di quest'anno scusatemi tutti quanti usavano phoenix enforcer branded era dappertutto poi vanno a a toccare la fusione del destino poi escono gli sprite tutti usano sprite poi vanno a toccarli poi escono i tiara lament tutti usano tiara lament e cioè è una una rincorsa al far uscire roba sempre più rotta non lo so non non so dove sia la fine di questo processo non possono continuare a meno che non inventino nuove meccaniche a un certo punto dove giochi direttamente roba dal side deck che comunque in alcuni giochi ho visto si inizia a fare ma spero non si arrivi a quello però voglio dire il il discorso è che comunque tiara lament è ancora il mazzo più usato secondo me anche contro quello che succederà dopo sta banlist probabilmente come ripeto sta roba andrà a rompere le balle più ad altri deck che a tiara lament e vedrete un sacco di gente che mette di main sta roba quindi aspettatevi anche i prezzi di queste carte di aumentare se non sono già aumentati io non li ho controllati per quanto riguarda per concludere il nostro deck shadow sta roba ripeto non è proprio simpatica abbiamo degli out per macro cosmo e dimensional fissure sì qualcosina abbiamo app callone che può negarli per sempre abbiamo la dinomiscus che può bandirli e però non abbiamo altro anche perché il drago purtroppo diciamo il drago l'effetto quello che vi va a distruggere la magia trappola non va perché si attiva come dicevo quando va il cimitero abbiamo bisogno del cimitero al limite abbiamo l'effetto del drago flip che può far tornare in mano il macro cosmo la dimension al fissure però è un evitato rimandare un po il discorso perché poi ve lo vanno ad attivare il prossimo turno e quindi al limite il macro cosmo se ve lo setano riuscite a distruggerlo col drago prima che sia attivato vabbè però via di quello non abbiamo tanti altri out prima di concludere vi voglio anche dire una cosa porterò a breve sul canale una nuova deck profile di un deck basato su branded una deco un po strano perché usa brande usa despia però usa altre robe riesce a fare phoenix enforcer e anche qualcosina di inaspettato quindi appena posso vi porto la decklist credo sia carina e non so non l'ho ancora testata contro tiara la manzo altre robe però così voglio anche farvi vedere qualcosa di diverso da shadow anche se comunque il deck che uso principalmente rimane quello bambola ombra con questo direi che possiamo concludere fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti se siete d'accordo con quello che ho detto se anche secondo voi questa mossa di konami non è proprio quello che serviva o meglio sarebbe forse convenuto fare qualcosina direttamente per quanto possibile ai tiara la mezza cosa ne pensate della bandi minamistica se pensate sia positivo o negativo o se non lo sapete e niente con questo direi veramente di concludere iscrivetevi se non lo avete fatto e noi ci vediamo come sempre alla prossima ciao